Questa sera qui è Supersonic, un grande artista. Unite alla passione e un gran talento, una serie di remix internazionali e una tonnellata di amici. L'album che vanta collaborazioni con artisti come Pitbull, Will A.M., Fabi Fibra, Samo e The Subsonica. Per noi questa sera con Ghetto Ghetta è il Crookers. Francesco, circa due mesi fa leggevo. Oggi, mercoledì 9 ottobre, in esclusiva su Rocket, potete ascoltare Ghetto Ghetta, nuovo singolo di Crookers, icona indiscussa dell'elettronica mondiale. Una release che ha poi susseguito il tuo tour in Australia. Come è andato? Qual è stato il feedback dall'estero? Il feedback dall'estero? Ma perché non parlare del feedback in Italia? Anche perché sa che in Italia è uscita in due versioni, vero? Allora, no. Versione elettronica e versione Ippo. Come è andata? Eh no, ma ti fai tu. Dai, lo sai già tanto la risposta che è andata bene. Cosa ti devo dire? Funziona, è bene. È un pezzo che sta funzionando. Posso fare l'eglio della situazione? È credibile. È un pezzo credibile. È un pezzo credibile. Perché Elio sostiene molto la credibilità. La credibilità. Ma il feedback da Ghetta come è andato? Il feedback da Ghetta è andato bene, nel senso che io gli ho chiesto naturalmente, guarda che faccio una canzone con il tuo nome dentro, non vorrei avere problemi poi in futuro. E lui che ti ha risposto? Mi ha risposto, va bene, che figata. Tanti auguri per le prossime. Piena approvazione. Per le prossime release, la musica mi piace. Questo è quello che ha detto lui, io non so se è un bene o un male, però è andata bene ragazzi. Ma oltretutto ora parliamo del filmato, molto originale il messaggio che tu lanci a Giorgio. Giorgio. Ma alla fine il Giorgio è riuscito nel suo intento di fare l'effetto bomba? Io dico, caro Giorgio, io in questo video l'importante è che fai l'effetto bomba e lo dico scalzo in uno studio con per terra il tappeto. Molto black. Eh sì, perché io vengo dalla musica black. Praticamente Giorgio non esiste. Ah, è uno scoop? Eh sì, è uno scoop. Nel senso che Giorgio non esiste, cioè esiste in realtà, perché Giorgio è il padre di mia moglie o di quella che sarà mia moglie. La fidanzata. Sì, non abbiamo neanche tempo di sposarci, perché ci vediamo poco. Fa ridere, però è così. Eh, fondamentalmente, eh, Giorgio era lì quel giorno che mi ha accompagnato in macchina, guidavo io però, però avevo bisogno di parlare con qualcuno che ero stanco. Ho detto, vieni con me, che dobbiamo farci queste sette ore di macchina e ce le siamo fatte. Ma Giorgio è il suocero? Sì, ma in quel caso lì era, non era nemmeno lì con me. Io dico Giorgio, perché Giorgio puoi essere anche tu, capisci? Ho capito. Giorgio può essere chiunque in quel caso lì. Era per far capire l'intento del video, che è un video fatto in 448, in un buco di cubo. Belli anche i Rolex, devo dire. Sì, quelli mi piacciono, però quelli lì forse erano anche finti, perché li ha montati il tipo, quindi figurati, sarà stato finto sicuramente quel Rolex. Ma dimmi un po', quando tu parti dalla produzione, dove parti realmente? Da un suono che senti? Ma io quando parto dalla produzione, parto dalla cucina e scendo giù in studio. Quella è la prima cosa che faccio. Ah sì? Sì, parto dallo studio. E poi accendi il software? Sì, no, poi accendo il primo il computer, il portatile, e poi per non perdere tempo accendo l'altra ciabatta, si dice ciabatta, no? Sì, sì. Accendo l'altra ciabatta e si accende tutto il resto, che sono tanta roba. E in realtà come parto per fare le produzioni? Parti da come ti gira, da come ti gira quel giorno lì. Nel caso di Ghetto Ghetto, dove è partito? Ghetto Ghetto è partito, ma chi ne so? È partito dalla cosa, dell'idea di fare il pezzo Ghetto Ghetto. Lì però mio amico e uno dei miei amici froci che mi ha detto, cavolo ma tu sei come Ghetto, però sei quella versione del Ghetto di Ghetto, perché suoni tutta la roba a marcia, però la gente si piglia bene. E quindi da lì in poi ci siamo fatti un pochettino la struttura del pezzo, no? Che c'è sta pausa che sembra, sembra, alla lontana, una roba che può richiamare un pochettino. Quando parte, parte, eh? Insomma, recentemente in un'intervista a GQ hai parlato un po' della versione produttore italiano, non è un po' così capita come lo è invece in America. Spiegaci meglio. Allora, io non voglio fare quello che dice che l'America è meglio dell'Italia, perché lo è. Però non voglio dire che è meglio, no, allora non è meglio l'America dell'Italia, se è chiaro. No. C'è solo un altro modo di vedere le cose. La cosa è... La prospettiva. L'altra prospettiva è anche un'altra metodologia lavorativa. Cioè, c'è una cosa di lavoro di team che fa sì che si possano fare cose più importanti ed è meno complicato che non fare la guerra per riuscire a fare piccole cose e non riuscirci quasi neanche alla fine. In Italia è un po' complicato, però, tanto che Canova, che è un produttore italiano molto fanoso, se l'è andato via ha fatto questa intervista che dice che in Italia non ci sono i produttori. non lo so, però forse non l'ha detto in quel senso lì, l'ha detto in un altro senso, non ci sono i produttori che gli piacciono a lui, forse. Però lui è uno molto grosso che adesso è andato a provarci a Los Angeles, no? E cosa ha detto? Ha detto io comunque per adesso sono qua a fare l'aiuto, dell'aiuto, 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 da uno che è il numero uno mainstream italiano vai a Los Angeles. è paragonabile a quello che vedi in Australia, no? Che è di Roma, ed è in Australia a fare l'uomo sandwich per la panineria. Dici, cazzo sei arrivato, magari quello lì che faceva l'uomo sandwich aveva il ristorante di panini a Roma e va in Australia, giusto perché devo andare in Australia, quindi bisogna contestualizzare le cose. Io dico solamente che in Italia il ruolo del produttore è proprio sconosciuto ai tanti. E chiaramente è complicato farsi vedere, se io faccio una canzone che è a nome mio con Fabri Fibra, la gente pensa che sia Fabri Fibra che ha preso la tastiera e che si è fatto la canzone. O è uguale per tante altre cose, quindi diventa un po' complicato. Ma il fit non hai capito? Eh, il fit, secondo me il fit pensano che sia una fit de pane, pensano che sia la fit de pane per farsi il pane alla mortadella, però il fit vuol dire che c'è la collaborazione, cioè vuol dire che se uno ha fatto una collaborazione con qualcuno, che cazzo, io ci avrò dovuto mettere qualcosa di mio, e siccome che non ci metto manco la faccia nei video, micchia arriva e c'è la musica. È complicato, è complicato e penso che ci sia molto da lavorare in Italia per far sì che la persona che ascolta, che è il fruitore della musica, che non è quello appassionato, è quello che la musica se l'ascolta su YouTube a cazzo. Cioè cos'è che c'è oggi? C'è quella roba di ah, ascoltiamo, capisca che magari è bravo il rapper di turno, ma è bravo anche chi gli ha fatto, anche perché il produttore c'è anche, cioè volendolo è anche qualcosa in più, cioè non è solo quello che fa la musica, è anche quello che segue tutto il progetto, cioè che ci si organizza, che si siede in studio e dice cazzo, canti di merda, vai a imparare a cantare. E spesso volentieri è anche colui che ha i contatti per poi potersi anche muovere. Sì, i contatti sono importanti, ma poi i contatti si fanno, l'importante è fare della bella musica, con la bella musica fai dei bei contatti, con la musica di merda fai i contatti di merda. Francesco, no, 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 assolutamente, condivido questo pensiero. Sono molto forbito, ma stasera parto solamente con merda e cazzo e culo fighe tette. Mi piace anche molto. Cioè, sarà che ho dormito tre ore. Ma è un poverino. Francesco, oltretutto tu nell'intervista hai dichiarato una frase bellissima, hai detto mi piace, in America mi hanno insegnato che se sei bravo a fare il tuo lavoro ti devi rispondere sono il migliore. In Italia se sei bravo a fare una cosa devi rimanere tranquillo per evitare che ti diano del fighetto dell'esaltato. Certo. È per questo che hai preso casa in Svizzera? Ma no, come fai a sapere che io vivo in Svizzera? Io in realtà non vivo in Svizzera. No? No, io vivo a Termoli. Ah. Chi ti ha detto che vivo in Svizzera? Mi sembrava. Guarda te, questi gossip metropolitani, anche se poi qua non siamo in una metropolitana, siamo in una scantinata. Siamo a Trevi. Siamo in uno scantinato. Allora, no, la cosa dell'Italia secondo me è realistica. È vera quella frase. È vera, sì, cioè nel senso che la legge italiana, aspetta che non mi ricordo cosa mi diceva mia nonna, mia nonna è la persona che stimavo di più nella mia vita ed è morta. Ma si chiamava? Nonna Tina. Tina. Ciao nonna Tina, chissà se mi vede. Praticamente la roba che mi diceva che in Italia se tu arrivi è rubato, se tu non sei nessuno sono sfigato. Sì, purtroppo. Quindi fondamentalmente lei mi ha detto vedi di non rubare, no, però vedi di arrivare. Facciala, senza rubare se ce la fai. Poi di quello che la gente ti dice fregatene un pochettino perché tanto, cioè, è sempre facile. Però è... Beh, è bella questa cosa della nonna Tina. È veramente bella. Però è proprio così. Cioè, è che se tu ce la fai a fare una cosa e fai vedere che ce l'hai fatta, risulti odioso. Perché ti dicono cazzo, però ce la sbatti sempre in faccia, che ce l'hai fatta, che due palle. Cioè, abbiamo capito che c'hai i soldi. No, ma tu ce l'hai fatta, dai su. Abbiamo capito che c'hai i soldi. In realtà penso che tre quarti delle persone in Italia non lo sanno neanche che cosa a me nella mia vita mi è successo grazie a quello che pensano sia il successo. Cioè, un sacco di cose che rimangono sempre nascoste. belle e anche quelle brutte. Quindi è meglio così, forse. È meglio che la gente sogni, no? Assolutamente. Lascia di sognare. Lascia di pensare che prendi 400.000 euro ogni serata e c'hai il ferro. Ma quante gigs fai? Quante gigs faccio? Non lo so. Quanti hai? C'è una persona che ci pensa a queste cose. Ma insomma, quando è un nuovo album? Quando è un nuovo album ci sto lavorando. Quando uscirà indicativamente? Ecco, guarda, è il bello di aver finito i contratti con l'etichetta e deve essermi fatto l'etichetta mia con cui licenzo il mio album e che non ho pressioni da nessuno. Quindi, guarda, io ti dico che pensavo ad aprire a marzo, però dipende. Adesso c'ho dieci tracce, dieci. Oggi ce n'ho dieci. È buono sì, però ogni giorno mi arriva qualche cosa che potrebbe essere buona per essere l'undicesima o la dodicesima e ho dei featuring in ballo che mi ci vuole un pochettino di tempo per chiuderli. Dai, su, fai orgoglio a noi italiani. Abbiamo detto la parola featuring. Featuring. Aiuto. No, il fetto di pan. Col casino. Vedi che poi se tu ci pensi dopo, se tu ci pensi poi ti si incasina la vita, capisci? Ma lo sai questa, la più bella intervista che ho fatto? Eh, beh, immaginavo, sono anche il più bravo, no? Sei più simpatico. Eh, guarda. Allora, che dite, io ti do un bocca in lupo, che crepi lupo. Crepi anche il lupo. Che crepi soprattutto lupo. Soprattutto crepi. E ci rivediamo per il tuo album. Va bene. Ciao, ragazze. Ci rivediamo al mio album. Diversa. Sì. E mi senti là.